Un saluto a tutti, la Bibbia dice per davvero che la terra è piatta? Secondo i terrapiattisti è così, infatti secondo i terrapiattisti religiosi cimenterebbero sulla forma della terra per mettere in dubbio ciò che dice la Bibbia. Ma sarà davvero così? Esiste un passo della Bibbia la cui interpretazione è controversa. Isaia 40, 22, la nuova Diodati. Egli è colui che sta assiso sul globo della terra. Fu Diodati, svizzero e protestante vissuto nel Rinascimento, ebraista esperto a tradurre globo. Ma la parola usata nel testo originale può significare anche circolo. Gli esperti stanno ancora dibattendo su questo argomento, non esiste una risposta. Però la maggior parte di loro concorda nel tradurre con globo. La cosa che i terrapiattisti non sanno però è che coloro i quali a tutti i costi vogliono interpretare e tradurre quel passo come circolo e non globo. Sono quelli che vogliono denigrare il cristianismo. Cioè, i terrapiattisti sono caduti nella trappola degli anticristiani per denigrare le religioni. E questa non è una mia ipotesi ma ci sono delle testimonianze. Nella disputa tra creazionisti ed evoluzionisti furono questi ultimi ad aver inventato l'idea seconda cui nel Medioevo e i primi cristiani credessero nella terra piatta. In realtà quando in cristianesimo si diffuse le persone istruite già sapevano che la terra fosse sferica e i primi cristiani, tranne qualche eccezione, credevano nella terra sferica. Credere nella terra piatta in nome della religione, anche se non quella cristiana, è un enorme danno alle varie religioni. Soprattutto in questi tempi, perché se chi crede che esiste Dio crede che la terra sia piatta allora credere in Dio è ridicolo. Già il creazionismo classico, che sostiene che la terra è sferica, basta per far credere alle persone che credere in Dio sia una follia. Nella pratica i terrapiattisti, così come i creazionisti in generale, stanno facendo allontanare molte persone della fede e molte altre persone della scienza. I terrapiattisti credono che se la terra fosse piatta Dio deve esistere per forza. Però come dicevo prima non tutti i terrapiattisti credono in Dio. Alcuni credono nelle classiche teorie sugli alieni che avrebbero creato l'uomo o cose simili. E comunque basterebbe sostenere il geocentrismo al posto del terrapiattismo. Come infatti se ne è uscito qualcuno qualche anno fa, sostenendo che l'eleocentrismo sia un complotto contro la Chiesa e che Galileo avesse torto. Infatti i non credenti non vogliono crederci quando spiega che il padre della teoria del Big Bang era un prete, giusto per fare un esempio banale. Concludo ribadendo i concetti centrali. Nella Bibbia non si sa con certezza se si parla di terra piatto osferica. Ma gli esperti di ebraismo di solito credono che sia più corretto tradurre con globo. Inoltre questa cretinata sta danneggiando la fede oltre che la scienza. E le persone si allontanano ancora di più dalle religioni oppure si allontanano dalla scienza. Spero di essere stato chiaro. Per il momento è tutto, alla prossima!